Un neofita che vede questi video dice, vabbè, io qui da Do, Shen, Do, Sol, l'abbiamo visto nel video precedente, no? Melodicamente da un primo grado scendo su un quinto e quindi ho una possibile, un possibile tipo di armonizzazione, no? Che potrebbe essere questa. E dice, ma io non ho visto questa cosa, non ho visto che da Do si scende a Sol, quindi perché lo stiamo dando per scontato? Naturalmente, al di là del fatto che questi video non sono rivolti ai neofiti e non sono lezioni, però questo ci suggerisce una cosa molto importante per andare a discutere di un concetto armonico molto importante. Ci fa capire che nell'armonia entra molto in gioco anche la lettura di natura melodica. Quindi il fatto di saper tradurre degli intervalli in numeri, per esempio questo è un 2, questo è un 2, questo è un 2, e dei nomi di nota soprattutto in numeri. Quindi il Do è il primo, questo è il settimo, questo è il sesto e questo è il quinto. Il fatto che io da un primo sto scendendo a un quinto melodicamente nel basso mi suggerisce una possibile soluzione armonica, che magari in un corale è più adottata rispetto ad un'altra composizione. Va bene, ma meglio avere un'idea che non averne nessuna e dover leggere una nota per volta, quello che c'è scritto nelle tre voci superiori, no? Questo anzi è proprio uno dei motivi per cui la lettura diventa molto macchinosa. Io per esempio sulla mia pelle ho vissuto molto questo, tuttora lo vivo, il fatto di essere molto macchinosi nel capire cosa succede nelle voci superiori. Questa cosa qui, se si hanno in mente delle possibili soluzioni e delle idee, già, viene molto agevolata. Anche nella lingua italiana noi abbiamo delle idee su come più o meno debba proseguire un testo o sul corretto modo di scrivere una parola, ad esempio. Abbiamo un sacco di cassetti in cui sono archiviati i modi giusti di scrivere le cose. Tant'è che poi se ci scrivono una parola in modo sbagliato, automaticamente con la nostra testa la correggiamo. Potrebbero, magari in un messaggio, ci potrebbero scrivere anche soltanto le prime due lettere giuste, l'ultima lettera giusta. E anche se in mezzo ci sono lettere a casaccio, più o meno noi saremmo comunque in grado di capire il significato di quello che c'è scritto. Anche se è tutto scritto in modo sbagliato. La stessa cosa deve avvenire in musica. Noi dobbiamo avere un'idea di cosa potrebbe succedere nelle tre voci superiori. E questa idea avviene attraverso la lettura melodica. Fatto assolutamente non scontato, perché per esempio qui il neofita praticamente si mette le mani nei capelli, perché dice già io non riuscivo a distinguere questo. Figuriamoci se mi fai tutti questi salti, se riesco a capire che questo melodicamente è un primo, questo è un quarto, questo è un quinto, questo è un primo, perché in do maggiore, il fa è un quarto, il sol è un quinto, questa cosa qui, anche se noi non ce ne siamo resi conto, noi che abbiamo studiato armonia, non ce ne siamo resi conto, l'abbiamo immagazzinata in qualche modo. Il fatto che il fa sia un quarto grado l'abbiamo immagazzinato in qualche modo, come il fatto che in si bemolle, il si bemolle sia il primo, il mi bemolle sia il quarto, il fa sia il quinto e il si bemolle sia di nuovo il primo. Quindi adesso noi spostiamoci un attimo su un foglio che ho preparato e andiamo a vedere come si può sviluppare questa capacità per anche un attimo comprendere se noi abbiamo delle lacune che potrebbero far derivare una scarsa conoscenza pratica dell'armonia, da cui potrebbe derivare, scusate, mi ho detto male, una scarsa conoscenza pratica dell'armonia. Perché, abbiamo detto, chiaramente se io non ho una buona lettura melodica, non riesco neanche ad associare la melodia che leggo al basso a una possibile soluzione armonica. Quindi, come si allena questa cosa qui? Prendo una tonalità, adesso abbiamo scelto si bemolle maggiore, quindi prendiamo si bemolle maggiore, e in questa tonalità io vado a scrivere tutti i numeri che si associano al determinato grado. Questi numeri adesso li ho scritti come numeri arabi, semplicemente perché Ramot, da cui trae ispirazione questo esercizio che vi sto proponendo, nei suoi due volumi, in realtà sono più di due, però nella traduzione di Mauro Formaggio sono due volumi, mette accanto al grado della scala un numero arabo, credo per una questione di colpo d'occhio. Se non sbaglio sceglie proprio dei numeri arabi. Credo sia per questo, anche perché se noi scrivessimo questo sarebbe sicuramente meno incisivo rispetto a ricordarci che al si bemolle corrisponde l'1, al do il 2, perché siamo più abituati con i numeri arabi, semplicemente. Quindi, messi i numeri arabi, andiamo poi su una tabella a parte e senza dare i numeri, cioè senza farlo in modo meccanico, andiamo a sceglierci uno di questi nomi, per esempio mi bemolle. Vediamo a cosa è associato, al 4, benissimo, abbiamo scelto questo. Ora leggiamo questa tabella in cui è stata scritta la scala su tre colonne, ripetendola ogni volta che si arriva al suo termine. Quindi si bemolle, do, re, mi bemolle, fa, sol, la, si bemolle e si ricomincia. Do, re, mi bemolle, fa, sol, la, si bemolle e si ricomincia. Do, re, mi bemolle, fa, sol, la, eccetera, eccetera. Inizialmente, quindi, noi questa tabella la leggiamo così, riga per riga, quindi, si bemolle, andiamo a confrontare. Si bemolle era 1, do era 2, re era 3. Quando arriviamo al nome che noi ci siamo scelti, nome di nota più attributo che ci siamo scelti, non dobbiamo andare a ricercare sulla tabella a che numero si associ, ma dobbiamo dirlo direttamente. Dobbiamo tenere a mente questo 4, mi bemolle 4. Quindi, se mi bemolle io lo vado a vedere 1, do lo vado a vedere 2, re lo vado a vedere 3, mi bemolle 4. E continuo e leggo in ordine, sempre riga per riga. In ordine, in ordine, in ordine, fin quando non finisco. Ecco, poi lo faccio al contrario. Leggo al contrario e torno qui. Andiamo avanti, ne scelgo un'altra. Facciamo finta che si bemolle, l'abbiamo già scelta perché è la fondamentale della scala. Direi che se siamo in si bemolle maggiore ci ricordiamo che si bemolle è il primo. Potrebbe anche non essere il caso, quindi scegliamoci anche il primo, se non ce lo ricordiamo colpo d'occhio. Scegliamoci il fa e un quinto. Iniziare dai gradi forti può essere una buona idea, perché sono dei punti di riferimento molto ricorrenti nell'armonia. Quindi il fa è il cinque, cioè è il quinto grado. Quindi si bemolle primo, do è secondo, il re è il terzo. Mi bemolle quarto, fa è quinto, sol sei, la sette, si bemolle uno e così via. Quando si è arrivati alla fine di questo lavoro e si hanno almeno tre associazioni abbastanza consolidate, quindi si è fatto tutto fino alla fine e si è ricominciato ancora da capo, si inizia a leggere per colonne, sia in questo senso che al contrario. Quindi la, mi, bemolle, si bemolle, fa, do, sol, re. Sol, re, la, mi, bemolle, si bemolle, fa, do, fa, do, sol, re, la, mi, bemolle, si bemolle. La ragione per cui scriviamo in tre colonne è che facendo così e leggendo in colonna stiamo seguendo il circolo delle quinte, in senso orario ed anti-orario. Arrivati a fare questo, quindi, cosa importantissima è che naturalmente se adesso io scelgo per esempio il sol, vado avanti e scelgo il sol, non è che adesso io mi vado a rivedere il si bemolle e mi vado a rivedere il mi bemolle quando l'incontro o il fa, gradualmente devono sommarsi i nomi che io non vado a ripescare dalla tabella. Quindi arrivato a questo punto io non dovrei guardare né il si bemolle, né il mi bemolle, né il fa e né il sol. Quindi dovrei dire primo, quarto, questo lo vado a vedere, settimo, re lo vado a vedere, un terzo, sol non lo vado a vedere, sesto, do, secondo, fa non lo vado a vedere, quinto. Quindi questo è il senso dell'esercizio. Una volta fatto questo tipo di esercizio, azzeriamo la nostra bella tabella un gioco di parole terribile che mi è venuto assolutamente involontariamente e ci spostiamo sulla tabella numerica che prevede il processo contrario. Quando io leggo 1 devo ricavare si bemolle. Qui era il contrario, quando leggevo si bemolle dovevo ricavare dovevo ricavare l'1. Invece qui è il contrario. Questa tabella prosegue nello stesso identico modo dell'altra, però ci aiuta a leggere in senso un po' più intervallare. Perché se noi sappiamo che, per esempio, in si bemolle maggiore il 2 è do, automaticamente abbiamo nella nostra testa un intervallo di seconda maggiore, dal si bemolle al do. Perché se do è 2 e la nota più bassa è si bemolle, subito noi sappiamo che quello è una seconda. Fatto questo esercizio, si possono scegliere anche le tonalità, per esempio, minori, armoniche, minore, melodica, ascendente. Per esempio, nella scala di Mi minore armonica c'è il Re diesis che non è presente nell'armatura di chiave. È importante sapere che il settimo grado della scala di Mi minore armonica sia un Re diesis ed associare il 7 a Re diesis. Perché non ce lo troviamo neanche nell'armatura di chiave, quindi è molto interessante. come processo. Anche perché le sensibili non sempre, come dire, sulla tastiera cadono nella posizione di un tasto nero. Quindi poi anche da un punto di vista pratico, sembrerà sciocco, ma avere questo tipo di associazione ci aiuta a avere una forma più chiara di quello che stiamo suonando, da un punto di vista intervallare, numerico intervallare. Perché, appunto, se io non ho chiaro che Re diesis si associa al 7 e quindi che sia la nota immediatamente prima della fondamentale, il Mi, e quindi ne sia la sensibile, il mio dito potrebbe anche spostarsi un po' a casaccio, non avendo chiaro che è proprio Re diesis, quindi un tasto nero, a determinarmi quella sensibile. Tant'è, fatto questo esercizio, ovviamente, bisogna andarlo a mettere in pratica suonando, suonando la scala. Quindi si possono, per esempio, abbassare tutti i tasti della scala con le due mani e, in corrispondenza, oppure con una mano sola, magari scegliersi solo una porzione e spostare la mano di tasto in tasto per cambiare la posizione della mano su cui si è. E, una volta fatto questo, andare a premere il tasto che corrisponde a un determinato nome di nota. Ma comunque, in realtà, già facendo questo esercizio, da un punto di vista armonico, ci aiutiamo enormemente, anche senza metterlo in pratica sulla tastiera. Quello, diciamo, che viene un po' anche col tempo, con lo studio, con la lettura, quindi quest'ultima cosa di mettersi lì, suonare con i testi abbassati e tutto quanto, non la consiglio particolarmente, perché poi studiando i brani e continuando ad applicare questa tabella ai brani che studiamo, riusciamo anche da un punto di vista pratico a connettere musicalmente questo concetto, perché mettersi lì in modo sterile a abbassare i tasti in corrispondenza del numero, sinceramente, sì, può essere una cosa utile se proprio non si ha in mente la tastiera, mettersi a farla, ma non è qualcosa su cui consiglio di soffermarsi troppo. Invece, è importantissimo soffermarsi su questa tabella qui, sull'associazione di questa tabella a questa tabella, perché ci sblocca veramente moltissimo nella direzione della armonia della lettura melodica. Quindi, come sempre, se questo video vi ha un pochino, se queste considerazioni vi hanno un pochino aperto una strada, dato uno spunto, eccetera, eccetera, per favore scrivetelo nei commenti, condividete questo video, mandatelo a un vostro amico, lasciate un mi piace, qualsiasi cosa che possa appunto farmi capire che questi spunti vi sono utili. Quindi grazie e al prossimo appuntamento. Ciao!